Corso Vittorio Emanuele, i commercianti si esprimono chiaramente ma soprattutto lamentano una carenza di comunicazione. È verissimo, il 96, il 97, il 93, abbiamo fatto quattro quesiti, nessuno è inferiore al 93% di contrarietà alla riqualificazione, probabilmente l'amministrazione se ci avesse ascoltato prima, se ci avesse chiesto un parere prima, poi si gioca sulla nostra pelle perché se li chiudono i commercianti, ahimè molti hanno già abbassato le serrande, se qualcuno non riesce più ad andare avanti fra una settimana o fra un mese, non ha fatto un bene alla collettività, la città, ha fatto solo danni, noi siamo convinti quando renderemo o porteremo al sindaco, all'assessore, all'aggiunta questi dati, siamo convinti che un momento di ripensamento vada, anche perché non era nel programma di questa amministrazione quella riqualificazione, la no, come dire, aggiunta successivamente, speriamo che si convincano che non è il momento di fare queste cose. Nessun pregiudizio, tant'è vero che c'è anche un elenco di proposte alternative. Sì, 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 ma noi infatti sulla necessità di collaborare con l'ente, la prima cosa che fa un'associazione collabora, i regolamenti comunali prevedono che il comune debba imitare, sentire, informare le associazioni di categoria, poi faccia quello che vuole, ma noi siamo disposti non ad essere informati, ma anche a collaborare, spessissime volte abbiamo fatto insieme, come quella per esempio che il commercio fa domani insieme al comune per commemorare i 70 anni delle vittime di bombardamenti del 1943. Lavoriamo insieme, il comune deve lavorare per la collettività, non contro la collettività.